Parte oggi il nuovo piano parcheggi a Capaccio Pestum. La sosta a pagamento in vigore fino al 30 settembre interesserà il litorale marittimo. Gli automobilisti pagheranno tramite parcometro o gratta e sosta. Nuovi parcheggi a disposizione anche a Pestum, Torre di Mare e Licinella. Le tariffe orarie sono di 50 centesimi per ogni oro o frazione nei giorni feriali e di un euro nei giorni festivi nei mesi di luglio e settembre. Per tutto il mese di agosto invece la tariffa oraria è di un euro. Nei giorni feriali nei mesi di luglio e settembre sarà possibile sostare per l'intera giornata pagando 3 euro. Nel mese di agosto invece la tariffa per l'intera giornata è di 6 euro.